Nasce in Irlanda, a Dublino, nel 1993, ma le sue origini sono di Casalvieri, in provincia di Frosinone. Fin da piccola mostra la sua passione per la musica perché scrive e canta canzoni in italiano e in inglese. A soli sei anni partecipa a The Late Late Show e al The Michael Barrymore Show come cantante è ballerina. All'età di sette anni partecipa a All Ireland Hip Hop vincendo il titolo di miglior ballerina di Hip Hop di tutta Irlanda, e mantiene questo titolo per sette anni. Nel 2010 ha partecipato a Miss Beauty Queen International vincendo il titolo e nel 2011 ha partecipato a Fuji, a International Beauty Final. Nel 2012 ha vinto Miss Valcomino nel mondo e, sempre nello stesso anno, ha partecipato al programma irlandese Away with a Stranger.